Carica la nuova app di Obiettivo News! Troverai notizie del canavese, ciriacese, porediese, calusiese, chivassese, da Venaria Reale e torinese. Notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News. Ma ecco le novità! Da oggi la nostra web tv diventa portata di smartphone, tg, servizi, format, musica e spettacolo. Tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati. Non perdere tempo, vai su Apple Store o Google Play. Cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona. Benvenuti a Tu per Tu, un viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. L'ospite di oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Un professionista affermato, un combattente, un soldato ma soprattutto uno stratega che ha saputo pianificarsi il futuro rinunciando alla sicurezza economica per realizzare un sogno nel cassetto. Un salto nel buio di questi tempi e parliamo comunque del 2010. Ad un tratto si licenziò dalla sua azienda dove peraltro ricopriva un ruolo di rilievo. Tagliò i ponti col suo passato professionale e iniziò un lungo percorso che a distanza di otto anni lo ha portato a coronare il suo sogno. Soldato riservista dell'esercito italiano e istruttore di difesa personale ha girato il mondo in lungo e in largo collezionando una serie innumerevoli di esperienze che gli hanno permesso di consolidare la sua attuale posizione professionale. Non è sposato e non ha figli ma una compagna con la quale condivide ogni tipo di esperienza extralavorativa. Una complicità straordinaria che lo vede protagonista anche fuori dall'ambito professionale. Il prossimo passo per lui sarà la consacrazione ufficiale nell'Olimpo dei migliori. Ma qualcosa ancora manca. Piccoli grandi dettagli, piccoli grandi particolari che fanno la differenza che allo stato attuale delle cose non gli permettono di spiccare il volo. Ma di questo sarà lui stesso a parlarcene. E' qui con noi oggi Emilio Buffardi. Ciao Emilio. Ciao. Benvenuto. Grazie. Allora cominciamo questa nostra bellissima chiacchierata e torniamo indietro all'anno 2010. Anno 2010 un lavoro fisso, una stabilità economica, una professione in divisa di tutto rispetto. Ad un certo punto hai lasciato tutto, hai tagliato i ponti col passato e ti sei dedicato ad un nuovo progetto. Raccontami come sono andate le cose. Ma guarda ti dico la verità. Molto semplicemente sentivo che mancava qualcosa. Facevo un lavoro che mi piaceva, mi appagava, ma allo stesso tempo mi sentivo limitato. Volevo fare qualcosa di più, qualcosa che fosse più nel mio settore, la mia passione prettamente. Capisco. E quindi niente, a un certo punto ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio mai più, o la valla spacca, si dice. Quindi a un certo punto ho preso il coraggio di due mani e un giorno di punto in bianco ho deciso che mi licenzio e ricomincio da capo. Qual è stato l'incipit che ti ha fatto decidere, addirittura ad arrivo, di licenziarti o perlomeno di tagliare i ponti col passato? Perché stiamo parlando comunque di una professione consolidata, se non ero avevi quasi vent'anni di servizio, se non ero giusto? Sì, diciamo che a livello lavorativo stavo molto bene, non potevo lamentarmi. Ma ti ripeto, avevo bisogno di qualcosa di più e quindi questa, diciamo, in modo sbagliato, questa sorta di frustrazione, mi ha detto no, non si può andare avanti così, il lavoro va bene, non mi posso lamentare, ma voglio di più, quindi devo rischiare. Quindi il bisogno di qualcosa di diverso, unitamente la frustrazione, ti hanno portato alla decisione finale, giusto? Esatto. È stato per un certo senso, passami il termine, traumatica? No, traumatica no, è stato, guarda, liberatorio. Liberatorio, addirittura. Esattamente, addirittura, perché ti dico, a un certo punto, nel momento in cui ho fatto questo passo, ed è non facile, perché tu lasci una sicurezza per iniziare un'avventura in cui comunque tutto è ancora da decidere, l'idea è stata, bello, è un'avventura, una nuova avventura e quindi devo viverla al 100%, quindi più che spaventato ero molto euforico, molto eccitato da questa situazione, il fatto di dovermi rimettere in gioco, di non avere stabilità e quindi dover comunque lavorare, impegnarmi, la notte non dormire e pensare che cosa fare, come organizzare il mio lavoro, la mia vita, quindi per me è stato solo uno stimolo. Hai trancato col passato, hai lasciato tutto alle spalle, però avevi dei punti di riferimento sui quali ripartire, sui quali ricominciare? Sì, beh, assolutamente, avevo già, diciamo, un'attività che portava avanti, era un'attività che portava avanti, diciamo, a livello passionale, amatoriale e che ho deciso di trasformare in quello che poi è il mio lavoro, quindi trasformare un hobby, una passione in un lavoro. Quindi mi viene da pensare che questa tua passione tu l'abbia pianificata prima, abbia comunque pianificato l'uscita ufficiale dal giro importante, perché ovviamente, ribadiamo, facevi un lavoro importante, quindi insomma, avevi pianificato tutto quanto anzitempo, giusto? Diciamo che sì, la decisione di licenziamento è stata immediata in quel giorno, ho detto, boh, devo farlo adesso, però mi stavo già preparando a tempo, tutto quello che faceva era improntato al realizzare questo sogno, questo progetto e di conseguenza era tutto un pianificare continuamente, come dici tu, l'uscita. Poi che abbia deciso quel giorno esatto di fare il passo, quello no, quello è stato più emotivo che studiato, più che logico, è stato proprio un'azione emotiva, dico, boh, devo farlo adesso, nel momento. Cose molto interessanti sulla tua persona, il tuo impegno in ambito pubblico trova applicazioni in vari ambiti, soprattutto in varie situazioni, una delle quali ha riscosso molto, molto successo e stiamo parlando della difesa personale dedicata alle donne. La domanda, di cosa stiamo parlando? Ma guarda, stiamo parlando semplicemente di dare del tempo, delle attenzioni a quello che è comunque l'ambito della violenza sulle donne, visto che comunque purtroppo la violenza sulle donne è un qualcosa che c'è sempre stato e si è sempre più ampliato. In quest'ultimo periodo ovviamente è molto sentito, soprattutto con l'avvento di alcune penalizzazioni, di alcune leggi, quindi lo stalking, per citarne uno, giusto? Esatto. Quindi l'idea era, occupandomi io anche di, appunto, difesa personale, di prevenzione e sicurezza, l'idea è stata di fare qualcosa, nel mio piccolo, di concreto e quindi non di organizzare attività a pagamento, dove comunque il concetto era lucrare su quello che comunque è un problema serio, assolutamente è sentito. Il concetto era, allora, organizziamo delle attività in favore delle donne, che siano anche solo corsi legati alla sensibilizzazione, alla prevenzione, alla difesa vera e propria, lo facciamo in modo gratuito, organizzando seminari, insomma. Quindi un discorso anche di consapevolezza, giusto, fondamentalmente? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo perché normalmente a volte abbiamo l'idea, questo vale un po' per tutti, che le cose brutte accadono sempre agli altri. Lo leggiamo sul giornale. Purtroppo, certo. Purtroppo è vero, è così. Quindi l'idea era far capire che a volte gli altri possiamo essere noi, e quindi di semplicemente applicare alcuni piccoli concetti di attenzione, non maniacali, ma semplici attenzioni, semplici accorgimenti, dove alla fine si poteva migliorare la propria qualità della vita in ambito sicurezza. Interessante. Tra altre cose, io so per certo che sei stato il primo, quindi sei stato il fautore di questa iniziativa. Quindi quali difficoltà hai incontrato, essendo il primo, anche perché hai presentato una novità che in ambito locale e territoriale non c'era, non esisteva? Beh, il problema è sempre lo stesso. Quando sei il primo a organizzare qualcosa, c'è sempre un po' di timore dall'altra parte. Sai, tu dici che... La novità, sì, bello, ok, difesa personale per le donne, imparare a combattere, perfetto. Tutto gratuito, bello. Poi c'è sempre la paura che dietro ci sia qualcosa, e quindi all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, nel senso che nonostante ci siamo messi a disposizione, dall'altra parte vedavamo che c'era sempre un po' di titubanza, sia proprio per l'argomento in sé, che comunque non è mai un argomento piacevole. Anche perché era dedicato prettamente per le donne. Esatto, quindi di conseguenza era sempre un po' scomodo per molte persone fare certi argomenti, quindi dovevamo avere una sensibilità veramente ad alto livello, perché comunque un attimo, anche perché ci siamo accorti poi nel tempo, facendo questa esperienza, che normalmente le donne che approcciavano alla difesa personale, o semplicemente alla prevenzione, spesso e volentieri erano già state vittime, o avevano conosciuto persone vittime vicino a loro, e di conseguenza per loro era molto sentita questa situazione. Quindi un discorso molto complicato anche di, passami il termine, di psicologia, comunque un lavoro psicologico a monte, ma non prettamente specifico per la materia trattata, però proprio in ambito sportivo legato alla difesa personale. Esatto, e poi pian piano invece abbiamo visto che questa situazione, man mano che andavamo a proporlo, aveva sempre più successo. Interessante. Da che avevamo veramente poche donne che venivano ogni tanto a provare questa difesa personale, siamo trovati ad avere le serate con 60-70 donne, e quindi abbastanza impegnativo anche per noi. Un notevole successo. Esatto. Una cosa molto importante, ho focalizzato questo perché volevo un attimo parlarne con te nello specifico, l'attenzione mediatica del web nei tuoi confronti si divide sostanzialmente in due fonti di pensiero. C'è chi dice che sei una persona che insegna la violenza e c'è chi pensa che i tuoi insegnamenti preservino dalla violenza. Dammi una risposta certa, o perlomeno dammi un'indicazione. Ma allora guarda, diciamo che in linea di massimo ovviamente io insegno sistemi di difesa, è anche vero che la difesa passa attraverso il combattimento, quindi diciamo che possiamo dire che sono tutte e due corrette. Una contrapposizione morale, ma direi di tutto, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché io penso che a nessuno piaccia applicare violenza su altre persone. Assolutamente no. Il concetto diventa quando non ne posso fare a meno e sono costretto a usare la violenza per la mia difesa, o quella dei miei cari, o di persone in difese. Ed è un po' quello che fanno le forze di polizia, che comunque applicano la giusta deterrenza, la giusta violenza in alcuni casi, per difendere quello che poi sono i cittadini. Quindi, permettimi ovviamente da neofita, non si arriva mai allo scontro finale, ma ci sono determinate tecniche che servono, tra virgolette, a neutralizzare un eventuale aggressore. Mettiamola così, giusto? Sì, esistono diciamo tecniche che servono appunto a neutralizzare, o semplicemente a crearsi una via di fuga, o ancora meglio, delle tecniche che servono per evitare il conflitto, andando a disinnescare l'aggressività, la violenza di un possibile aggressore. Poi, in alcuni casi, c'è anche il combattimento vero e proprio. Aggressione e violenza. A tal proposito, io devo farti una domanda molto importante, e partiamo da una citazione. Sivis pacem, parabellum. Che in latino vuol dire, se vuoi la pace, prepara la guerra. Questa è una locuzione latina, ovviamente di un autore ignoto, ma presente in molti autori con vari varianti. Se non erro, questa frase è anche presente sul tuo sito. Mi spieghi, come mai? Ma è molto semplice. Io assolutamente sposo questa frase, perché il semplice fatto è che appunto la rivoluzione è semplice. Se vuoi la pace, devi prepararti alla guerra. Il concetto è, se io imparo a difendermi, se io sono in grado di difendermi, sicuramente non dovrò mai combattere. Questo è un po' anche i teoremi di Sun Tzu, il generale cinese che oggi ancora viene studiato in tutte le accademie militari, addirittura nella scuola di manager a New York. Questo perché nel momento in cui sono in grado di combattere, posso scegliere se combattere o non combattere. Nel momento in cui io non sono capace a combatterlo, quindi a difendermi, non ho scelta. Posso solo subire la violenza di un aggressore. Imparando a difendersi, spesso e volentieri, non è tanto il concetto di combattimento, inteso come calci e pugni, ma è inteso anche soltanto nell'acquisire quella serenità, quella consapevolezza, o diciamo ancora meglio, quella lucidità che mi può permettere realmente di capire che cosa è meglio fare. Quando ho questa lucidità, o questa attenzione, o serenità, probabilmente farò degli errori, e questi errori poi ne porteranno le conseguenze. O io, anche l'aggressore, perché poi comunque a volte non parliamo sempre di un aggressore inteso come persona violenta che viene per rapinarmi. Magari può essere anche una degenerazione, una discussione con un amico che può appunto degenerare, quindi poi dopo magari uno si pente di quello che fa. Riuscire a gestire la violenza, le relazioni a rischio in un modo un pochino più lucido. Una gestione a livello emozionale, soprattutto caratteriale. Poc'anzi mi hai detto che diverse donne che si approcciavano ai tuoi corsi gratuiti di autodifesa arrivavano già da esperienze traumatiche. Tra virgolette, quante sono riuscite a terminare determinati percorsi e quante hanno abbandonato in linea di massima? Guarda, ti dico, diciamo che praticamente tutte le ragazze che hanno approcciato questi corsi e che avevano delle esperienze già negative alle spalle arrivavano con una fortissima motivazione. Interessante questo. Sì, questa cosa mi ha molto colpito. Io non credevo, devo dire che forse ho imparato più da loro che loro da me, perché notavo appunto che queste donne che veramente avevano avuto ogni tipo, diciamo, di esperienza negativa arrivavano con una motivazione. Ho subito, non voglio mai più subire. Voglio imparare a difendermi. Quindi avevano, secondo me, già nel loro percorso di riabilitazione o quello che era semplicemente capire esattamente quello che allora era successo avevano switchato rendendosi conto che da quel momento in poi potevano scegliere che cosa. O se continuavano ad essere vittime o se invece l'idea era da oggi in poi non sarò mai più vittima. E quindi diciamo che tutte le donne che sono arrivate da me con questa esperienza erano tutte veramente molto motivate, determinate, conscie di quello che si andava a studiare. Quindi veramente devo dire che una motivazione così ho trovato... Molto forte. Molto forte. A livello morale. L'età media si va da un minimo a un massimo di... cioè non c'è limite? Ma guarda, ti dico la verità... Domanda stupida, perdonami, perché alla violenza ovviamente non c'è limite né di età né di circostanze, però giustamente questa è contestualizzata. Guarda, io devo dire che ho avuto sempre esperienze legate con le donne dai 16-17 anni, quindi ancora minorenni, fino ai 50-55 anni... Interessante. Vuol dire che non ho visto una categoria a livello di età, ma sempre diversi litri di persone anche di diversi ambienti sociali, culturali, quindi... Vari città sociali, giusto? Esatto, esatto. Quindi magari dalla più focoltosa all'operaia piuttosto che alla studentessa che abbiamo detto. Assolutamente. Emilio, si dice che la popolazione abbia bisogno di sicurezza, abbia bisogno di sempre più sicurezza, abbia bisogno di conferme e talvolta ricorda di insegnamenti di autodifesa. Ovviamente, come dicevamo, una platea eterogenea e di partecipanti sempre più in crescita. Il numero delle donne che si affacciano a questo sport è sempre più frequente. Sì. Come hai saputo non mercificare questo tipo di fenomeno? Perché, passami il termine, adesso è diventato un fenomeno, ovviamente se ne parla ovunque. Per te che sei stato il primo a sperimentare questa cosa in ambito locale, come fai a discernere le due cose? Beh, non è facile, indubbiamente, anche perché parto da un presupposto che per me questo è anche il mio lavoro. Però c'è sempre il dare quel qualcosa in più e quindi continuare a fare, tra virgolette, volontariato nel mio piccolo, con le mie attività, ma allo stesso tempo anche dare la possibilità a chi vuole frequentare in modo assiduo e continuo di farlo anche attraverso dei corsi per il proprio. Diciamo che quello che noi facciamo non è mai dovuto a un qualcosa che poi ci porta le allieve in palestra per guadagnare soldi. Capisco. Noi facciamo delle attività e facciamo la nostra formazione. Sicuramente ti fa onore. Ma io lo faccio perché credo che sia giusto che tutti facciano la loro parte in ogni parte del mondo. Io sono qui, sono a Torino e di conseguenza è veramente importante dare in qualche modo il mio contributo. Io mi rendo conto che lo posso dare magari in questo frangente e di conseguenza voglio fare questo. Infatti una cosa che noi facciamo quando organizziamo questi seminari, questi incontri, non pubblicizziamo mai le nostre attività. Quindi non c'è mai un ok avete visto cosa si può fare venite da noi in palestra e venite a imparare. Non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai. Poca pubblicità e tanta tanta sostanza. Sì. Un particolare che mi incuriosisce ovviamente facendo difesa personale per le donne questo si prefigge una sorta di contatto stretto, un contatto fisico stretto con le allievi piuttosto che le partecipanti. Questo non ti porta un po' di imbarazzo perlomeno nei confronti di persone che sono già state traumatizzate. Quindi vedere un uomo che simula, immagino che tu simuli anche realtà attuali, verità che accadono. Come la vivi questa cosa? Ma allora guarda, noi abbiamo diversi metodi di insegnamento. Uno di questi prevede appunto che le ragazze incominciano a lavorare fra di loro in modo che incominciano ad entrare in una mentalità diversa anche perché magari per loro è la prima volta che approcciano un sistema di combattimento e quindi di contatto fisico. Inizialmente lavorano solo fra di loro. Poi pian piano incominciano a lavorare con degli istruttori uomini. Io non lavoro praticamente mai con gli allievi. Proprio perché in questo metodo di insegnamento che si chiama anche COESD, di correzione di sospenza diretta, facciamo in modo che io sia una sorta di grillo parlante esterno. Una voce fuori campo. Esatto. E in questo modo diventa un riferimento e mai la figura, diciamo, aggressiva ai loro confronti. In questo modo, quando loro capiscono una tecnica o la vogliono migliorare o hanno difficoltà, ci sono sempre io lì a fianco che sono il punto di riferimento. Mentre lavorano fisicamente con un istruttore o a volte con un istruttore. Quindi diciamo che è sempre un tutelare gli allievi. Questa cosa la facciamo anche a volte con degli uomini che hanno a loro volto subito le violenze. Perché a volte pensiamo sempre a solo le donne, ma anche spesso molti ragazzi, molti uomini subiscono aggressioni violente. E quindi hanno bisogno poi anche loro di riuscire a capire che cosa fare per riuscire ad avere una vita normale. Spesso il tutto passa attraverso un corso di difesa personale, di combattimento, di atti marziali. Serve più a una questione psicologica più che a una questione di combattimento vero e proprio o, diciamo, fisica. Se dovessi fare un confronto comparativo con chi non ha subito violenze e si approccia a questo tipo di disciplina, chi è più motivata? La ragazza giovane oppure la donna di una certa età? Ma allora, diciamo che di solito la donna più grande perché comunque ha una visione della vita un po' diversa. Quindi già approccia sapendo e avendo la consapevolezza che comunque, come dicevo poco prima, gli altri a volte possiamo essere noi. La ragazza più giovane approccia diversamente, più per curiosità, più per hobby, più per moda, perché è vero, quello che hai detto tu poco fa, attualmente è diventato anche un sistema molto in voga, molto di moda, anche perché molte star di olivido lo praticano, anche in Italia alcune star locali praticano queste discipline e di conseguenza ormai è un po' una moda e questo un po' mi spiace, sono sincero. Immagino, immagino. La tua compagna, l'abbiamo citata poc'anzi nella presentazione, che tipo di rapporto hai con la tua compagna nel seguire queste lezioni, nel dividerti tra l'attività, fra il lavoro e ovviamente la vita privata? Come riesci a incastrare tutte queste cose? Beh, non è facile, anche perché facendo tante attività il tempo è quello che... Ti salva che non si è sposato. Ma non cambia molto, alla fine. Penso che il marimonio sia solo un contratto. Sì, immagino, immagino. Questa è una cosa estemporanea. Ma diciamo che, allora, la mia fortuna intanto è che la mia compagna si è appassionata a quello che io faccio di lavoro, quindi anche lei viene in palestra e si allena, si prepara. Spettacolo. Quando vado all'estero a fare formazione o corsi particolari spesso mi accompagna. Quindi diciamo che sono riuscito a coinvolgere lei in quello che per me è la mia passione, il mio hobby che poi anche il mio lavoro. E quindi questo ci permette di avere più tempo da passare insieme. Io ho curiosato spesso sul tuo sito, il web parla di te e sono andato alla ricerca di determinate informazioni che mi hanno fatto capire che tu ormai sei un artista, chiedo scusa, un professionista affermato. Però non hai ancora fatto il salto di qualità che ti consacra appunto nell'Olimpo dei Migliori. Perché? Che cosa ti manca? Ma guarda, non è tanto una questione di che cosa manca. Credo che sia semplicemente l'aspettare il momento giusto per fare il salto di qualità. A volte mi rendo conto che qualcosa che magari può essere un lato positivo può diventare un lato negativo. Mi spiego. Il voler continuamente aggiornarmi, studiare. Io passo in tre giornate a studiare, ad aggiornarmi, a fare corsi, informazioni, per portare sempre una qualità in più a quelli che sono i miei allievi sia in Italia che all'estero. E a volte magari questo volere ancora essere più bravo, migliorarmi, studiare, approfondire meglio alcune tematiche mi fa rallentare sul fatto di fare appunto il salto di qualità. Io so per certo che tu non hai nessuno che ti rappresenta, fai tutto da solo, hai fatto in precedenza tutto da solo e ti avvali della facoltà, anzi della collaborazione di persone molto, molto fidate. Spesso sei impegnato, lo dimostra il fatto che io per convocarti qui ci ho impiegato una settimana, quindi ti telefonavo, non rispondevi, ti messaggiavo, però ovviamente questo vuol dire che sei molto, molto impegnato. Questo ovviamente come viene contestualizzato nella vita privata e qui ritorno sempre al rapporto che hai con la tua compagna. Diciamo che io ho una grandissima fortuna, la mia compagna è una persona che capisce, è una persona che comunque mi appoggia, comprende e a volte anche se magari si potrebbe arrabbiare per il fatto che sono spesso via, capisce quella che è la situazione e quindi appunto c'è quello che fa e mi appoggio. Poi è anche vero che anche lei è una persona molto impegnata e quindi anche lei è spesso in viaggio per il mondo, per il lavoro, quindi riesce a fare un rapporto con quello che è il suo impegno e il suo lavoro e quindi capisce che anche il mio è similare e di conseguenza l'idea è quella che quando abbiamo i nostri momenti ci li godiamo appieno. Se dovessi descrivere la tua vita arrivato al giorno d'oggi e la dovessi descrivere con un aggettivo, quale aggettivo useresti? O magari se vuoi anche più aggettivi, insomma, cerchiamo un attimo di coniare una frase che ti identifichi al giorno d'oggi. Guarda, mi viene in mente avventurosa. Avventurosa? Sì. Come mai? Ma perché credo che l'avventura sia assolutamente il pacto integrante dell'essere umano e ricercare l'avventura in tutto quello che si fa, quindi le emozioni e anche il rischio cominciamo poco fa del fatto di lasciare un posto sicuro dove stavo bene e intravenendo un'avventura dove comunque di questi tempi e anche nel 2010 non era facile lasciare un posto sicuro a mio avviso è da pazzi e perdonami a mio personale punto di vista però è veramente io non l'avrei mai fatto ma pur avendo una posizione consolidata assolutamente. Guarda, ci ho pensato e ci ho pensato tante volte e dicevo no, appena è l'occasione faccio il salto non importa quello che succede non posso vivere con dei rimpianti nel mio futuro e nel mio passato quindi il concetto è o la valla spacca ma al che vada tornerò a fare quello che facevo però nel frattempo non posso vivere una vita dicendo e se magari avessi provato e se fossi riuscito e se avessi fatto questo e quindi capisci dovevo assolutamente farlo e quindi continuo a fare questo spesso mi propongono cose particolari nel mio lavoro e spesso dico sai che c'è lo faccio lo faccio Emilio Buffardi ha fatto un salto nel buio e stavamo parlando dell'anno 2010 bene io ti ringrazio di essere stato è sempre un vero piacere signori e signori a tu per tu Emilio Buffardi alla prossima ciao carica la nuova app di Obiettivo News troverai notizie del Canavese Ciriacese Porediese Calusiese Chivassese Davenaria Reale e Torinese notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News ma ecco le novità da oggi la nostra web tv diventa portata di smartphone TG servizi format musica spettacolo tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati non perdere tempo vai su Apple Store o Google Play cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona